Anche per aver portato la discussione su un livello al di sopra di quello strettamente tecnico, ma aver coinvolto la mobilitazione delle coscienze e gli aspetti anche etici e morali che ci sono davanti e che sono fondamentali rispetto alle loro implicazioni politiche. Adesso secondo me ci sarebbe ancora un sacco di cose per parlare, a cominciare dalla problematica energetica, però vedo che l'ora comincia ad essere un po' tardi. Quindi lascerei una battuta a Beppe e poi farei concludere di ogni gusto se sei lato. Grazie Stefano e grazie a tutti per le domande, punti importanti e interessanti da richiedere queste discussioni, davvero mi sa che dobbiamo pensare al secondo ramo per arrivare alla profondità che serve e che meritano questi temi, insomma, a delle conclusioni un po' più complete. Parto e chiudo dalla domanda del signor Bruno, se posso permettermi di indirizzarvi per nome, anche perché non vi ho consentito da rompare, quindi mi scuserebbe se non ho colto tutti i dettagli, ma parto da un elemento che si lega alla professione che faceva adesso Antonio Pansè. Io penso che lui dica una cosa importante, qui guardate, mi tolgo il cappello, il mio ruolo, insomma, professionale e istituzionale, che è derivato da una persona che ha un'età. E' senz'altro importante un'età ed è importante farlo nella maniera più accolata possibile in senso transnazionale perché questo è un problema anche europeo e vengo a dire che questo è un problema diverso anche dagli altri, e dalle altre guerre che vediamo, che vediamo tutto. E però bisogna anche capire che gli appelli generali alla pace, come abbiamo visto in tante altre situazioni, purtroppo rischiano per assurdo di produrre un effetto inatteso, di indebolire anche un po' il conto della tipologia di domande generali che facciamo, se non siamo in grado di mettere anche i nostri decisori politici davanti ai limiti delle strategie che stanno seguendo al momento, e di dire proprio chiaramente, signori miei, per arrivare a questo tipo di composizione che permette prima di tutto la cessazione delle violenze, il ritiro delle bucche, l'altra ripetizione della situazione umanitaria, eccetera, 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 fino a una negoziata, in una fase di spera di natura, dovete fare X, Y e Z. E in una situazione di guerra, questo è estremamente complicato e purtroppo dipende, ricordiamocelo sempre, per minima di tutto, in qualunque conflitto, dipende prima di tutto alle parti sul gioco in quella guerra specifica. E qui, purtroppo, la lista delle cose da fare è niente. e ho cercato di non, insomma, riportare un vero di pessimismo anche in quella che è la situazione acquale, ma, a meno che le prossime due settimane, insomma, non vieno in senso diverso delle cose, al momento non siamo decine a una risoluzione. Ed ecco perché dobbiamo prepararci a un approccio di meglio per io che sono nato. E qui tocco un po' tutte le questioni che sono emerse nelle varie domande. La prima sulla questione delle armi. La scelta da fare in questo momento che è estremamente complicata è capire a che livello si vogliono spingere i paesi europei. Se passare da il sostegno difensivo, cioè il tipo di armamenti che sono stati forniti in ora, o passare a qualcosa di diverso, di offensivo, le capacità letali sarebbero non solo più distruttive, ma più difficile da comportare. Con un occhio sempre a cercare di contenere le conseguenze del conflitto, questa è una prospettiva che mi ha aiutata. Per quanto sia sempre difficile spaccare già per l'inquadro una situazione di questa complessità, bisogna affinare il nostro messaggio per dire che va bene un tipo di sostegno e che va bene l'altro. Così come, io lo dico personalmente, io sono stato molto sorpreso perché non è stata soltanto una virata italiana, ma una virata che ho visto anche in altri paesi, soprattutto in Germania, da il modo in cui le leadership dei nostri governi hanno un po' colpso la palla al valso, fatto quello che era il sogno della presidenza dell'arbitrato e impostato dei piani finanziari per arrivare al 2% delle spese militari. La ragione per cui io in questo caso individualmente non riesco a condividere questo percorso è anche perché è senza senso parlare di incrementi generici delle spese militari. Dobbiamo capire per chi, per cosa, in cui prospettiva politica e strategica, che cosa vuol dire aumentare le spese militari, se parliamo di pagiamenti, se parliamo di salari di impunitare, se parliamo di emergenza diffusa, dove e perché. E questo è importante, perché una tendenza, e questo è un tema grandissima di rinavanzo di cui dobbiamo faccire, un rischio serio che abbiamo in questa fase è il rischio che i nostri governi rispondano all'urgenza di contrastare le politiche di Mosca al di là della guerra in Ucraina, che vuol dire aumentare gli spiegamenti e livello di tensione in Mali, in Repubblica Staticana, in Ligia e altrove dove ci sono gli spiegamenti importanti della Russia. Questo può essere molto pericoloso, perché stiamo parlando in sostanza di un aumento del livello di tensione a livello globale conseguenza di questa guerra, ma che non ha alcun impatto rispondente. Secondo tema che è stato sollevato è quello dell'energia e come si può vivere un'economia di guerra. In realtà c'è stata una relativa diminuzione della nostra dipendenza dal gas russo mentre ci avvicinavamo al conflitto, a passare da una dipendenza del 40% a un po' più del 20%, insomma è mai un po' composita e poi con gli accordi e i gran pur che ci davano prima Stefano Vaccaro e Antio Panseli stiamo passando sostanzialmente un po' più vicino a 10% con quelle che sono immediatamente disponibili. Poi è vero che il problema rimane su come garantire la diversificazione. Però qui c'è un problema in postazione. Vi ricordate quando facevo mentre si cantava l'uomo e l'uomo nessuno ha capito che l'uomo c'era davvero. Ecco nel 2014 l'Unione Europea aveva già discusso l'attuazione di una strategia di diversificazione energetica che tenesse conto anche di questo e invece è stata veduta della Germania e dell'Italia in particolare che mantenendo una forte interdipendenza energetica si evitasse la prospettiva di un conflitto. Così non è strano. L'errore capitale di quella fase è stato non procedere immediatamente con un grande programma di diversificazione basato sui metri innovati e ora lo stiamo pagando molto caro. Allora non si può più ritardare questa scelta in sostanza anche perché il rischio è che con questa strategia di diversificazione intacchiamo anche i nostri obiettivi di sfruttare l'evento turmanico. Allora prima facciamo questo passaggio e in maniera massiccia e qui in realtà Stefano è un bellissimo esperto quindi non entro nel vendimento del tuo serciato ipotetico ma insomma se ne sta presto questa scelta diventa molto carica. Su una cosa che sono stato d'accordo con Antonio Panzeri e il riferimento che faceva al castamericano ma in generale a quelli che sono interessi degli Stati Uniti in questo conflitto lo dico perché sono chiaramente tra le parti con cui ci sentiamo per capire quali siano le loro spettive del conflitto ma non vale che sia. Se da una parte è vero sostenere che loro pagano meno i costi di questo conflitto vada se per tante ragioni non è vero che abbiano un'intenzione approdata perché in realtà le energie europee in tutti i sensi insomma dalla capacità di sicurezza all'uso delle nostre capacità al nostro potere finanziario si servono ancora in realtà per riescono a verci come parte della conflittazione con la Cina che non impegnati a resistere a una guerra ancora con me e qui vi dico una cosa non tanto per quello che diceva prima ma in generale il suo stato del dibattito a sinistra in Italia c'è un fortemente grosso nel modo in cui affrontiamo questa guerra ed è che anziché parlare della guerra tra Russia europeina spesso la sinistra cade nella tentazione di fare in generale un discorso critico all'Occidente perché noi abbiamo la giusta riformazione diciamo di essere più vicini alle persone che hanno vissuto e vivono da proprio vedere le strutture che l'Occidente propone e produrre però non dobbiamo fare confusione se vogliamo parlare di risoluzione della guerra fare analisi anche estologica delle posizioni di una cosa che è rilevante fino a un certo punto in questo caso come gli Stati Uniti lo sta probabilmente in una posizione di conflitto molto più di quanto non lo sia a livello di migrazione in questo momento è una distrazione non dico che sia sbagliata in sé dico che manca il punto e qui bisogna capire che siamo davanti al più grande conflitto nel continente europeo degli ultimi tre anni scusate i tre anni perché in realtà anche la guerra in Bosnia con il Bosco era di dimensioni imparagonabili a quella attuale e la ragione per cui questo ci spegna maggiormente rispetto alle altre in Europa non il mio lavoro perché la guerra la guerra la guerra è stata quant'è di male ma il problema è che questa guerra veramente nei diritti europei veramente ha il potere di essere dei grandi problemi dei regimi di controllo di armamenti sul nostro continente e davvero ci pone in un mare di guai nel caso di un incidente che parte con il limitato ma può avere conseguenze molto fiante perché gli attori che sono in prossimità di questo territorio sono molto più potenti per esempio dei vicini del mare io ero molto preoccupato quando lavoravo i negoziati nel nostro paese con i gruppi armati ma i paesi non avevano la capacità di muocere tanto quanto solo la russa e questo è un tema importante perché la proporzione del rischio non è una roba e non voglio parlare di voglio dire che è essenziale prendere misure per la tipologia di conseguenze con il combiano di spostoli che vi al continente uno delle quali per arrivare a domanda l'Unione Europea tocca il destino dell'Unione stessa io in realtà devo dire che il lavoro che seguo Ruega da dieci anni devo mettere di essere rimasto esterno e sorpreso quando ho visto la risposta dei paesi non è perché per una volta nella maniera più attuaggata possibile forse anche in un pelo di extra zero così mi consentire di dire qualcuno che sta sull'io di una scarpa dopo dei tentativi che non l'hanno prima nella fine di un'altra ma la risposta dei paesi è stata abbastanza uniforme collettiva accolata e con qualche nuova sicuramente le intensità e le dentistiche rimane ancora parte questo è sorprendente perché tra sfondo un collega scherzando diceva che con Deno Cudine e le patrie fondatorie di Roma perché davvero il ruolo dell'invito oggettivo in questo caso è quella che è una chiara minaccia anche alla stabilità dell'unione è un tema importante ad ossia per due italiani ha avuto un'angela di destabilizzazione anche in tre nostri paesi sostenendo tendenzialmente dei partiti che erano sì populisti reazionari in destra ma che avevano anche un elemento diciamo anti-establishment chiaramente nel senso di per conservatore ma che principalmente vedeva tra le proprie vittime ricercate proprio l'unità e il costrutto sull'unione europea che non io sono racconti che penso di parlare del parola di costo tra i mezzi per raggiungere fine di convivenza tra le tante possibilità che tante volte non siamo riusciti ad assicurare naturalmente però questo tema rimane per il futuro e bisogna farci conti perché in nessun modo questo purtroppo arrivano anche penso del ruolo del mondo europeano in i futuri la Russia ha assolutamente quasi nessuna intenzione di rinoccio questo ruolo del mondo e penso che dobbiamo intendere tutti i nostri non che molte parti sono i negoziati ma sono i primi di un'idea politica che ospediamo tantene questo denso corro a strunire e distruzione dell'ONU 1000 l'ONU è più complessa del Consiglio di Sicurezza l'Assemblea Generale ha votato all'arvissima maggioranza di 149 paesi una risoluzione di corte condanna a questa invagione però è vero che sta emergendo uno scollamento con quello che possiamo chiamare più del mondo il pericolo in questo senso è che ci troviamo davanti a un ritorno a una logica di avanzamento degli obiettivi delle grandi potenze quindi anche della Russia capitalizzando l'insoddisfazione dei paesi del sud del mondo che già hanno insomma in pratica rapporti commerciali di sicurezza molto vicini sia con la Cina che con la Russia e a monte e che nelle condizioni di impegno europeo anche in solito quando noi coniamo la cooperazione coniamo le condizioni di stato di diritto di cooperazione e le limiti valoriare che sono fiscini a volte per i paesi del tutto il mondo quindi preferiscono avere anche un legame più semplice da testere con la Russia questo è un tema che vuole avere interrogarsi vuol dire anche salvaguardare i dettagli di democratizzazione che non hanno operato e qui ci troveremo con un problema importante che proprio qui non possiamo non possiamo non possiamo sviluppare chiudo sul ruolo dell'Italia per i negoziati Draghi è stato abbastanza attivo dietro le quinte è uno dei capi di governo che insieme alla Francia alla Germania alla Bocchia ha mantenuto ha cercato di mantenere anche un insieme di aperture importanti pur pur insomma sostenendo la soluzione occidentale diciamo di sostegno militare e di aumento della federazione del Somos avremo però dei miei riporti a sostenere questa economia non tanto per la dimensione energetica soltanto quanto per i rischi che un conflitto protratto in Europa produca dei posti per l'instabilità diffusa che questo andrà a creare in Europa che vuol dire maggiori investimenti non tanto perché vogliano svilupparci una certa direzione ma perché dobbiamo divenderci da una serie di anche problemi diffusi questa guerra sta portando già delle conseguenze cose da stabilire nel Balcane nel Caucaso parzialmente in Africa occidentale e soprattutto vicini nel Balcane ci riguardano molto da vicino che la prospettiva che insomma l'Europa ci si ne rimanga come importa significa anche dei posti dell'ordine ma significa soprattutto anche dei posti di ordine sociale visto il gusto ne avrà molto da dire ma 5 milioni di risultati in Europa sono un numero alla patola storica e l'integrazione economica e sociale di 5 milioni dipende in Europa è qualcosa che è già gestito con una certa attenzione perché se abbiamo visto una giornata di destra che sulla l'integrazione sull'asilo a Marcello per gli esani immaginate che cosa sarà ritornato questo è un netto del razzismo strutturale in Europa che è più prona ad accogliere i sottolinei che nomina i migranti riportati di altri continenti i loro bimbiotti aveva aperto il service e il razzismo strutturale il razzismo istituzionale e su questo punto perché c'era una domanda c'era tante c'era la punta il signor Bruno un'apertura su come porre questi temi in maniera forte e ha citato il santo padre ma siccome io ho parlato di temi ultraterreni non mi permetto di avvicinarmi in specie a divino che sono soprattutto questi nomi su cui con giusto corrisponde veramente meglio di molti di noi mi fermo più per ringraziare del tempo l'attenzione mi scuso se non ho toccato alcuni punti ma a volte sul lato di riflessione ho parlicato un attimo ti ringrazio ancora e una buona notte grazie grazie Giuseppe grazie